buongiorno oggi parleremo di come diventare persone attraenti e lo faremo con swami ananda sarasvati un maestro direttamente qui con noi dall himalaya dall'india fondatore di diversi centri yoga in tutta l'india denominati yoga vidya e fondatore di yoga vidya italia passiamo adesso a la parola a swami ananda namaste su amici oggigiorno tutti vogliono essere attraenti iniziando dai bambini per colpire le persone adulte soprattutto le donne mi ricordo che ho chiesto a una signora puoi venire giù a portarci una particolare cosa che avevamo dimenticato e al marito per telefono disse no mi dispiace non posso venire giù e perché perché non mi sono ancora truccata e quindi non sono attraente non sono presentabile dice quindi se non sono presentabile o attraente come posso uscire da casa ecco perché voi potete vedere che tutti acquistano prodotti cose per sembrare più belli applicando qualsiasi tipo di trucco di make up sul viso potete sembrare più belli ma ricordate una cosa potreste essere non in grado di attrarre persone dovete essere persone attraenti ma adesso potrebbe scaturire una domanda cosa intendi per attraente e vi faccio una controdomanda non preoccupatevi supponiamo che voi siate vi troviate in un luogo pubblico e con voi c'è una persona ricca che conoscete e siete lì e accanto a voi c'è un bambino dov'è che andranno i vostri occhi verso la persona ricca o verso il bambino sono certo che gli occhi andranno verso il bambino sarete attratti e attirati dal bambino e adesso mettiamo da parte la persona ricca c'è una persona burocrate una persona in una posizione di potere e quella persona si trova in un luogo pubblico e accanto a lui un bambino ditemi ancora una volta dove cadranno i vostri occhi sono certo che andranno verso il bambino a meno che avete qualcosa da fare con quella persona particolare perché gli occhi vengono attirati dal bambino incluso le grandi celebrità anche se c'è una celebrità una persona famosa e in più da sola ecco perché le celebrità non stanno mai si accompagnano sempre a persone perché questa cosa li rende ancora più attrenti voi venite attratti da una persona che è più energetica quindi che ha più energia un bambino o una bambina non possono darvi nulla ma venite attratti ugualmente da un bambino o da una bambina perché un bambino è energetico pieno di energia più il bambino è energetico più venite attratti da quel bambino ecco perché se ci sono tre o quattro bambini insieme il bambino che è più energetico che ha più energia verso quel bambino tutti verranno attratti da quel bambino cosa vuol dire che se volete essere veramente persone attraenti rendetevi pieni di energia quindi aumentate la quantità di energia che avete nella letteratura yoga questa energia è chiamata prana energia vitale perché se parliamo semplicemente di energia non capiamo bene e l'energia va divisa in due parti una è l'energia grossolana l'altra è l'energia sottile e qua noi chiamiamo per semplificare energia vitale prana ed è quell'energia che vi fa respirare che vi permette di comunicare che vi permette di funzionare che vi permette di vivere che vi permette fino a che il vostro prana è attivo fino a quel momento siete pieni di salute siete belli se vi è uno squilibrio nel vostro prana sviluppate ogni tipo di malattia e la vita diventa più complicata ecco perché dovete elevare il vostro prana dovete comprendere ora in questo caso alcuni punti perché più elevate il vostro prana più vi sentirete sicuri nella vita e una volta che vi sentite sicuri scoprirete che la gente inizierà ad amarvi cioè piacerete alla gente la gente sarà attratta da voi e nel momento in cui sarete anche a vostro agio interiormente sembrerete belli apparirete belli e come soprattutto le donne lo sanno benissimo così come vi ho fatto in precedenza all'esempio di quella signora potete prendere fare riferimento a quell'esempio o potete fare riferimento anche alla vostra vita quindi se siete donne prendete esempio fate riferimento alla vostra vita se siete un uomo osservate la vostra compagna vostra moglie le vostre figlie sorelle quindi questo è un esempio non sto svalutando nessuno ma a meno che una donna non si sottoponga a un make up a un trucco non si sente a proprio agio interiormente e quindi per sentirsi anche a proprio agio ci si trucca anche se a volte è fastidioso è penoso farlo ho chiesto a molte donne a volte è veramente penoso faticoso doversi sottoporre a make up infatti dopo trucchi pesanti la pelle si screpola ma dato che non si ha sicurezza in se stessi ci si sottopone al make up e non sto scherzando ogni volta che non si è sicuri di sé in quel momento ci si trucca anche gli uomini lo fanno ciò vuol dire che voi potete mettervi a vostro agio quindi il punto chiave qui è come rendere se stessi a proprio agio vi potete mettere voi stessi a vostro agio e rendervi sicuri e automaticamente sembrerete belli sarete attraenti e in questo caso non avete bisogno di molto make up di molto trucco attraverso la pubblicità le multinazionali ci rovinano e alla fine si diventa dipendenti dal truccarsi dal sottoporsi a make up ed è peggio che fumare e attraverso il trucco il make up ci si ci si ammala la pelle si ammala addirittura anche il cancro si può contrarre soprattutto gli uomini e le donne colorare i capelli lo sapete meglio di me perché si fanno tutte queste cose per attrarre e per cosa perché non ci non ci si sente a proprio agio non ci si sente sicuri non ci si sente sicuri e nello yoga abbiamo un bel concetto per prima cosa ci si mette a proprio agio e come mettersi a proprio agio con molta energia se riuscite a rendervi energetici pieni di energia automaticamente vi sentirete a vostro agio e noi lo diciamo molto bene se noi osserviamo il nostro cervello soprattutto da un punto di vista della respirazione respiriamo di solito in due maniere una è il respiro consapevole l'altro è il respiro inconscio quindi non essere consapevoli del proprio respiro ogni volta che respirate in maniera consapevole il vostro cervello frontale si attiva ed è connesso con la mente conscia e quando la vostra mente conscia è attiva siete pieni di energia invece quando è attivo il vostro cervello posteriore significa che respirate in maniera inconsapevole la vostra mente istintuale la vostra mente subconscia è attiva che prosciuga la vostra energia e quindi avete bisogno di creare molta energia in voi stessi attraverso il respiro conscio il respiro consapevole ma a volte avete bisogno di più tempo per fare per innescare questo processo e ci sono però delle tecniche degli espedienti in pochi minuti uno o due minuti non necessariamente più di uno o due minuti potete cambiare la vostra energia completamente anche se la vostra energia è bassa in due minuti voi potete cambiare la vostra energia c'è un mudra chiamato Shambhavi Mudra mudra qui vuol dire è una postura attraverso la quale voi lock ok you can say block your energy you don't allow your energy to go away unnecessarily serrate serrate la vostra energia quindi la bloccate so you need to really understand this concept very carefully dovete comprendere questo concetto molto bene so whenever you need to really energize you can take the help of mudra e quando quindi volete energizzarvi quindi avete bisogno di prendere di usare questo mudra di fare questo mudra so to energize yourself you can do a particolare posture called Shambhavi Mudra quindi per energizzare voi stessi potete praticare Shambhavi Mudra così come entrambi sono seduti qui potete stare seduti in questa postura anche una postura più semplice come lei o in Padmasana ma assicuratevi che la vostra schiena stia dritta e il mento parallelo al pavimento potete mantenere gli occhi aperti e adesso provate a puntare gli occhi sull'Agnacacra l'Agnacacra è qui la giacra è qui se guardate la parte della parte di questo come vedo potete vedere il mio rosso ho messo una cosa rosso quindi questo è il luogo adesso focalizzatevi su quel punto adesso respirate secondo il vostro ritmo potete respirare e adesso lentamente potete chiudere gli occhi e respirate continuate e mantenendo gli occhi chiusi potete puntare lo sguardo sempre in quel punto è un piccolo espediente questo e scoprirete che nel praticarlo nell'immediatezza eleverete il vostro prana e una volta che il vostro prana è elevato vi sentirete bene e una volta che vi sentirete bene sembrerete più belli e sarete anche attraenti e la gente sarà attratta da voi perché dovete fare energetico quando vogliono perché dovete rendervi energetici ogni volta che voi lo desiderate e voglio sottolineare alcuni punti ogni volta che voi trascorrete le vostre giornate quando le trascorrete assicuratevi di non sciupare la vostra energia in maniera superflua soprattutto per quanto riguardano le vostre ansietà le vostre preoccupazioni e ogni volta che c'è ansietà che c'è preoccupazione scoprirete che respirate in maniera inconsapevole quindi il vostro cervello posteriore è più attivo ecco perché a quel punto dovete imparare a respirare in maniera consapevole ogni volta che trovate del tempo in quel momento dovete respirare in maniera sistematica e consapevole e più respirate in maniera sistematica e consapevole diventate energetici e una volta che siete pieni di energia siete le persone più belle e le persone più attraenti